Noi abbiamo aperto la pagina una settimana e abbiamo detto ok diamo questo servizio alle persone di fare la videochiamata quindi qualcuno chiamava e trovava o te o me che dicevano ciao sono Bianca dove dobbiamo andare, dove ti possiamo accompagnare e da lì si sono sviluppate poi tutte le modalità al quale noi siamo arrivate oggi quindi aiutarti in un certo modo, chiamare le forze dell'ordine, avere delle persone di back Il primo servizio che voi avete fornito è stata la videochiamata che è una sorta di accompagnamento durante una situazione di particolare pericolo nella giornata di una ragazza, di una donna Quando da bambini ci chiedevano cosa puoi fare da grande? Ci sono lavori che neanche immaginavamo e quanti sono quelli che invece oggi ignoriamo? Ci sono persone che in situazioni rischiose o difficili hanno il loro posto di lavoro Questo podcast racconta proprio le loro storie, importanti, sorprendenti e completamente nascoste ai nostri occhi E mbe regà, qualcuno dovrà pure farlo Io sono Cicoria e questo è Mestieri Impossibili, un podcast brand original Allora ragazzi, la puntata sta per iniziare, ma prima mi raccomando mi dovete fare un favore Iscrivetevi al canale, mettete un like e attivate la campanellina così da rimanere aggiornati su ogni nuova uscita del canale Adesso, buona puntata Ciao a tutti, io sono il Cicoria e siamo di nuovo qui a Mestieri Impossibili Oggi sono qui a presentarvi l'attività di questa associazione non profit, Onlus, Donne per strada È inutile che ogni giorno vi dica quanto siamo inabbissati da notizie come i femminicidi, la violenza di genere e la violenza sulle donne Ecco, Donne per strada si propone proprio in prima linea tutti i giorni per aiutare le donne nei loro problemi quotidiani Oggi abbiamo qui con noi Bianca Irata, che è una fondatrice di Donne per strada ed è qui a presentarci il progetto Bianca, spiegaci come è nata Donne per strada e qual è il loro ruolo nell'aiutare le donne tutti i giorni Armando, ciao, grazie per avermi invitato e aver invitato la nostra associazione È bello parlare con un uomo, non mi è mai capitato, quindi è una bellissima sfida Donne per strada nasce nel 2021 Laura Didilectis, una mia amica allora, era una psicologa clinica, è ancora una psicologa clinica E ha l'idea geniale di aprire una pagina Instagram chiamandola Donne per strada Questo perché? Perché muore a Londra questa ragazza che si chiamava Sarah Everard E lei viene uccisa A Brixton se non sbaglio Bravissimo, uccisa e stuprata da un poliziotto E questo ha generato in tutto il mondo come se ci fosse stato un risveglio nelle persone Quindi ogni essere umano ha cominciato ad avere delle idee per sviluppare dei progetti Uno di questi è stata Laura che ha deciso di essere insieme alle persone che sono in strada Quindi l'idea di fare dei tratti in strada, di notte, di giorno, tornando dal lavoro, andando a casa In solitaria la mandava fuori di testa Mi sembra che temporalisticamente parlando la fondazione avviene appena dopo la campagna del Me Too Sì, poco dopo, non ricordo la campagna del Me Too quando era No era marzo 2021 Potrebbe essere? Potrebbe essere E avete deciso concretamente di fondare questa associazione? Allora l'idea iniziale non era di fondare un'associazione Laura ha questa intuizione come ti ho spiegato prima E decide di utilizzare le videochiamate per accompagnare le persone a casa Apre la pagina, chiama delle persone specifiche che già conosceva nella sua vita privata Dicendo ho bisogno di una mano da parte tua in questo, a livello legale Io sono stata chiamata per la parte di comunicazione creativa, fare le fotografie Comunque la pagina su Instagram ha fatto un botto incredibile Perché credo che abbia guadagnato 100k di follower in 8 mesi Una settimana No è stato assurdo perché Laura dice ok apro la pagina Pensa quanto ha sentito il problema È stato assurdo, assurdo perché noi abbiamo aperto la pagina una settimana Abbiamo detto ok diamo questo servizio alle persone di fare la videochiamata Quindi qualcuno chiamava e trovava o te o me che dicevano Ciao sono Bianca dove dobbiamo andare, dove ti possiamo accompagnare E da lì si sono sviluppate poi tutte le modalità al quale noi siamo arrivate oggi Quindi aiutarti in un certo modo, chiamare le forze dell'ordine, avere delle persone di back Il primo servizio che voi avete fornito è stata la videochiamata Che è una sorta di accompagnamento durante una situazione di particolare pericolo Nella giornata di una ragazza, di una donna Sì, nasce per la notte, è chiaro E come succede a volte nei progetti che prendono un largo C'è tante persone, poi sono le persone che creano il progetto Quindi tantissime donne chiedevano le chiamate la mattina E noi ci siamo domandate come mai la mattina Perché la mattina molto presto negli autobus, nei treni c'è poca gente Quindi la percezione della sicurezza diminuisce Infatti scegli anche dei lavori, oppure non prendi dei lavori Perché dici, sai, se mi devo fare due ore ogni mattina, la sera al ritorno, ogni notte Beh, forse il lavoro non prendo In realtà è un po' pericoloso Cambia la tua vita Ed è questa la cosa che non capivano le persone all'inizio Specialmente i maschi, ma non è per criticare gli uomini È perché viviamo delle condizioni fisiche e mentali differenti E quindi quando i ragazzi dicono Ma che state facendo, questo progetto non ha senso Perché non riesce ad empatizzare con una persona che fisicamente Sembra che sto di una cosa brutta sulle donne Ma non è che purtroppo è così Ti senti più debole e quindi hai più paura, ovvio Perché fisicamente un uomo qualsiasi è più forte di te Sì, ma c'è anche la componente del sapere che può succedere qualcosa Per quello si parla tanto di percezione Non per forza deve succedere qualcosa Ma il fatto che io camminando in strada ho paura Non va bene Non va bene Questo mi fa pensare ai video girati magari da turiste straniere In visita nelle nostre città italiane In cui fanno vedere il fenomeno del catcalling O quanti complimenti non richiesti subiscono Mi fa pensare che è veramente un problema grave E comunque dalla persona che lo subisce è pesante È molto pesante Cioè io magari da ragazzino ero cintura nera del catcalling Però era perché non riuscivo a empatizzare Come hai detto tu prima Se tu avessi avuto qualcuno che te l'avesse spiegato a scuola Con un metodo di amore Cioè non di amore Però di comprensione ai tuoi confronti E insegnarti qualcosa senza dirti Devi fare così e basta Tu credi che non avresti fatto questo? Ma non è solo quella la questione Cioè per esempio oggi ho letto una dichiarazione di Dacia Maraini Non è solo la questione che non c'è stata un'educazione sessuale Un'educazione sulla violenza di genere a scuola Ok Noi italiani purtroppo ci siamo subiti 40 anni di berlusconismo Questo ha cambiato molto In cui oltretutto la tv era uno dei mezzi di informazione maggiormente usati Non è che c'era internet 25 anni fa Per cui ce la siamo subita appieno questa lezione di maschilismo E del trattare le donne come oggetto Però vedi se noi avessimo avuto delle istituzioni e delle scuole con già dagli anni 50 Queste materie che tu hai citato prima Forse Berlusconi non sarebbe arrivato a governare questo paese È una domanda che possiamo porci Ma pure perché la società italiana è stata molto patriarcale fino a poco tempo fa Quindi di fondo partiamo con dell'ignoranza È una costituzione che comunque blocca il tuo modo di pensare Perché fino a poco tempo fa la famiglia era marito, moglie e la prole Sono d'accordo Infatti questo è un altro punto importantissimo che tucchi Sono le province Noi abbiamo visto con il progetto Donne per strada Che c'è tantissima violenza che non si conosce Noi adesso i casi più eclatanti sono le grandi città La sicurezza in strada di Milano, di Torino, di Bologna, di Napoli Questi grandi casi Però posso interromperti Bevi certo Guardando un sondaggio Tra gli anni 2021, 2022 e 2023 Nella città di Milano In effetti i reati, il numero di reati non sono aumentati Sono aumentate le denunce? No, sono aumentati i reati predatori Ed è di conseguenza la società, il cittadino Ha una sensazione di maggior pericolo Però non è che sono aumentati di numero Capito che cosa voglio dire? Sono d'accordo con quello che dici Cioè c'è un aumento del reato predatorio di rapina Che è del 25-30% mi sembra Capito? Ok, quindi dici non rubo più la borsetta Semplicemente la sensazione Quello percepito dai cittadini Sì ma io ero a Milano per una conferenza Anzi un festival del femminismo E parlavo con le ragazze Dicevo ragazzi che sta succedendo? Possiamo aiutarmi? Possiamo fare qualcosa? La maggior parte delle donne ragazze Mi hanno detto guarda via Il punto è che è sempre stato un po' così Personalmente ero in un luogo in cui Non ho parlato con donne che mi hanno detto Sento maggiore Sento che se ne parla di più E questo è positivo Perché così si creano e si trovano gli strumenti Per gestire e contrastare queste situazioni E cercare È impossibile pensare che tra sei mesi Cambiamo questa situazione Però bisogna iniziare da ieri Perché non possiamo immaginare di vivere in questo modo Io non sono madre Sono donna E sono figlia Però Se tu avessi una figlia oggi La lasceresti andare a prendere una birra All'una di notte Ti faccio questo esempio Perché può essere il più forte a livello emotivo Sicuramente in compagnia Sì non c'è problema Però magari da sola Facciamo un passo indietro Vai Cioè questa cosa della videochiamata È una cosa essenziale Se io dovessi mandare una figlia Magari cioè Al ritorno sono io che la videochiamo Se una persona adulta Non c'è chi gli sta dietro Comunque è utilissimo questa cosa qua Della videochiamata Quindi voi Fondate questa associazione Diciamo mettete insieme Una sorta di centralino Fondato solamente da ragazze Eravamo noi cinque No eravamo otto all'inizio Perdonami Eravamo otto ragazze E prendevamo noi le chiamate Ecco Adesso ti faccio questa domanda Com'è trovarsi Dall'altra parte della cornetta E trovare una persona Che è in situazione di pericolo Oppure Ha dei disagi Oppure magari è ubriaca Cioè Quali sono le due sensazioni E come dire Le relazioni Con questa persona Allora Una domanda difficile Perché io sono molto sensibile Non molto sensibile Perché io ho la lacrima facile Quindi mi ricordo Che dopo un paio di telefonate Abbiamo fatto una riunione E le ragazze mi hanno detto Bia tu non hai Il carattere giusto Per prendere le chiamate Perché piangi In panico In panico Brevissimo Vado in panico In panico Invece ci vuole qualcuno Che è freddo E capisce bene la situazione Esatto Cioè freddo Freddo nel senso di attitudine Poi sono tutte ragazze Iper emotive Però Riescono a scendere Bisogna valutare Più che altro Una situazione di pericolo Scendere Scendere è fondamentale Per quello poi Gli strumenti L'educazione La formazione Ti normalizza Certe situazioni E ci sono persone Che sono in grado Di prenderlo Io no Però mi ricordo Che le prime Era strano Perché tutte le prime Domande erano Ma è gratuito Il servizio E noi sì Certo Siamo su Instagram Siamo su social media E l'abbiamo fatto Per questo motivo qui Ah strano Quindi già questo Ci ha fatto capire Di quanto ci fosse Bisogno di cose sociali Le persone ormai Non credono più Che qualcuno Fa qualcosa per te Pro bono È il termine tecnico Ma semplicemente Perché vuole Migliorare la società In maniera Libera E come posso spiegarti Naturale Cioè non è che io Devo fare un lavoro Essere pagata E decidere Che dalle 6 alle 8 Io sono qui Sendo un tavolo Ad aspettare Di aiutare qualcuno Io decido da sola Di mettermi Dalle 8 alle 9 Senza denaro Senza niente Di aiutare qualcuno Questa è stata La cosa più forte Per quello poi Da 800 follower Siamo arrivati A 110 mila In 4 giorni Perché donne Dicevano Non avete capito C'è un servizio gratuito Chiami le ragazze Ti fanno compagnia Ma soprattutto Magari trovi Una ragazza come te Che è disponibile E è pronta lì A capire le tue esigenze Sì perché siamo donne Quindi non c'è la cosa Sei matta Che cosa sta succedendo O l'angoscia Perché l'idea di Laura Nasce dalla chiamata Che noi facciamo comunque Cioè noi donne Siamo abituate da sempre A fare la chiamata Al fidanzato All'amica Dicendo mi accompagni a casa Perché? Perché? Perché ti distrai Perché fai una chiacchiera Perché non stai In una strada buia In cui sei tu da solo l'angoscia Senti una cosa Qual è una chiamata Che ti ricordi Che è capitata a te O a una tua aiutante In cui c'è stata Mentre mi racconta Questa storia E mi dice Ecco vedi sto entrando In un metro Che lei aveva finito Il tirocinio E stava tornando a casa Noi abbiamo queste grandi idee Di queste città Cosmopolite europee Che funzionano meglio Delle nostre città Che sono piene di persone Martedì sera Non c'era nessuno E c'erano tre ragazzi Seduti Che la guardavano Facevano delle battute Vai a capire Quello che poi è reale Però quello che lei Mi faceva vedere Girando la camera Dicendo Vedi io sono in un posto Che non conosco Mi immaginavo Berlino Cool Piena di giovani Piena Vuol dire che ci sono persone Intorno a me Era vuoto il treno Lei senza la lingua Non capiva la città Era completamente da sola Rontano dalla famiglia Ha detto Io ho paura E aspetta quello che succede L'importante È che ci sia Qualcuno dietro la cornetta Perché fa sì Che una persona Che vuole fare del male Rapinare Fare violenza Desiste Perché sa che c'è un testimone Di quello che sta succedendo La videochiamata è ancora più importante Perché è una prova Per il processo Quindi La videochiamata È servita in molte situazioni Per dire Guarda È successo questo Quindi Abbatti anche il Dov'eri Eri ubriaca Sei sicura di quello che stai dicendo Ho la videotestimonianza Quindi quello lo abbatti Subito Tu adesso ci hai detto Che ti sei occupato Di un caso Che stava accadendo in Germania Quindi significa che La vostra associazione Non è solamente In Italia Ma è in tutta Europa È in tutta Europa Sì È in tutta Europa Perché una ragazza Italiana Che abitava a Berlino Usò il servizio Al bar Ha raccontato Le mie che sai Stavo Ho scoperto Questa cosa su Insta Che non ci sono delle ragazze Che ti accompagnano a casa Il caso vuole Che questo Significa quindi Che le operanti Che rispondono Devono pure Saper parlare Diverse lingue Assolutamente Sono policlotte Oggi Viola Che sarebbe la start up Che oggi Dà il servizio Della videochiamata Perché sono passate Tre anni Copre 18 lingue 18 lingue Sì Fantastico È un problema globale Forse peggio dirlo Ma non è solo Un problema italiano Quindi sì Noi donne Non siamo sicure in strada Non solo noi donne Un problema culturale Non solo Dico Italiano No Proprio Intrinseco Nell'uomo Nel maschio Purtroppo sì Purtroppo sì La strada non è sicura E mi dispiace Perché io mi ricordo Quando ero bambina Che sono cresciuta In una casa In cui mi si diceva Qualsiasi cosa succede Va in strada E urla Senti Voi Fornite Quattro tipi di aiuto Uno legale Uno psicologico Uno nutrizionistico Addirittura E l'ultimo è Ginecologico Che mi sembra Tanto importante Perché voglio dire Ci sono persone Purtroppo Con i tempi che corriamo Cioè se io penso Che adesso Il nuovo governo Questo governo Vuole 2000 euro Dagli extracomunitari Per poter accedere Al servizio sanitario Quello che fate voi L'aiuto ginecologico Gratis È importantissimo Allora il nostro Non è gratis però È calierato È apprezzo calmerato Sì sì Assolutamente Sì sì No è importante Perché Sennò poi Le persone arrivano E giustamente Tutti dispiace Dici no Non è gratuito Ma perché Diamo molto valore Al tempo professionale Perché sono Quattro supporti Quindi L'idea è quella Di essere vicino A una donna A 360 gradi Quindi tutte le prime Consulenze Sono gratuite E poi Si inizia un percorso Si inizia un percorso Dipende Voi dal tipo Di disagio O il tipo Che vi trovate davanti L'altro giorno L'altro giorno Mi è capitato Una mia amica Una mia conoscente Che mi scrive Mi dice Guarda Credo di avere Uno stalker E io parlo Con le ragazze Con le varie Responsabili Dei supporti E una cosa Che io non sapevo Che l'iter È prima Iniziare un percorso Psicologico Per poi andare Insieme a denunciare Che quando comincio A denunciare Varie casistiche Si portano dietro Una cosa psicologica Bella impegnativa Un bel bagaglio Da dove sopportare Abituati prima A quello che dovrà accadere A livello psicologico Pure perché È difficilissimo denunciare Molto difficile E ti ritrovi Nelle situazioni Sì però Bisogna dirlo Cioè È necessario Per determinati reati Tipo la violenza di genere Lo stalking Però è anche necessario Che ci siano persone Che siano pronte Ad accogliere le denunce Nel modo In cui devono essere accolte Quindi se io sono stata vittima Di violenza di genere O Violenza domestica Quindi dentro casa Subisco violenza Del mio compagno Io non posso ritrovarmi Accanto Una persona di fronte Che sta prendendo Accogliendo le mie denunce Mi giudica Mi critica E mette in discussione Quello che sto dicendo Questo è molto Molto importante Perché poi Sai quante donne Conosco che vorrebbero Denunciare Non denunciano Dalla parte Delle forze dell'ordine Non sono preparati Psicologicamente La maggior parte delle volte Ad affrontare Una violenza Qualcuno che denuncia Un reato di violenza Di genere Magari La maggior parte delle volte Quali sono le iniziative Che l'associazione Donne per strada Oltre alle videochiamate Perpetra Per aiutare Le donne Per esempio Mi spieghi Che cos'è Un punto viola Certo Pensate al punto blu Dell'autostrada Io Quando l'ho letto Però Spiega Punto viola Progetto punti viola Nasce subito dopo Che le videochiamate Diventano virali Nel team C'era Questa donna Greta Martinez Spagnola E lei ci racconta Di questo progetto Che c'è Nelle città spagnole Che si chiama Punto svioletas Spero di averlo detto bene E basicamente Sono locali Club Notturni Che decidono Di aiutare le persone Specialmente le donne Quindi per esempio Io lavoro dietro il bancone E mi rendo disponibile Ad aiutare qualcuno Qualora vuole essere Aiutato Quindi nei loro bagni C'è scritto Noi siamo un punto Na 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 Ti aiutiamo E quindi vado al bancone E dico Tu Bianca L'aurico Io ho bisogno di aiuto Quindi è un po' informale Diciamo Noi prendiamo questo modello E cerchiamo di renderlo Formale E utile In maniera nazionale Quindi ci siamo guardate Il nostro progetto Abbiamo detto Abbiamo tantissime persone Che lavorano insieme a noi Specialmente professionisti Del settore Quindi Creiamo un corso di formazione Con avvocati e psicologi Ogni esercizio pubblico Bar Ristorante Farmacia Club Qualsiasi posto Aperto al pubblico Decide di diventare Punto viola Con donne per strada Fa una formazione Che dura Dalle 2 alle 4 ore E acquisisce Degli strumenti Per gestire Diverse situazioni Di violenza A livello legale E psicologico Quindi far diventare I punti Viola Dei veri e propri presidi Tutta la città L'ambizione è che sia La città Le città E la nazione Tappezzate Di punti viola Perché Se la strada È poco sicura Dobbiamo rendere I luoghi sicuri Quindi Qualsiasi cosa succede Io so che ho un punto viola In cui rifugiarmi O con il quale parlare E chiedere Delucidazioni Su una mia situazione Personale Sai che cosa Mi è venuto in mente Anni fa No Eravamo in un locale Io ero pure Con la mia fidanzata Era un mio concerto Ok A fine serata Mi sono accorto Che c'era Una ragazza Una mia fan Che era particolarmente Ubriaca Ok E comunque Era rimasta Da sola Senza tutti Gli amici Che ho visto Intorno All'inizio Della serata A un certo punto Comunque La vedevo Che era bella Dispersa No Ho visto due persone Adulte Molto più adulte Di lei Comunque Non erano Belli individui Non erano Bei figuri E vedevo Che La approcciavano Dopo un po' Io passando Lì vicino Ho sentito Ah non ti preoccupare Ti portiamo noi A casa Allora sai Che cosa ho fatto Sono andato Dalla mia ragazza E ho detto Senti guarda Ho visto questa cosa qua Non l'hai sentita Bella Ci sono stanno Sti due Che stavano Porta via Io Non me la sento Nel senso Questa fa una brutta fine L'hai capito subito Per cui Siamo andati là Lei La mia ragazza Ha capito immediatamente Solidarità femminile Siamo andati là Se siamo intromessi E una cosa o un'altra Gliel'ho fatto Dita alla mia ragazza Ah Non ti preoccupate Ti portiamo noi A casa Bello E così Cioè Io mi sono sentito Tranquillo Magari ci ho messo Mezz'ora in più Di sera Di notte A portarla a casa Però Stavo con i sogni Tranquilli Che poi quella Stava nel letto suo Senza problemi Ma questo è quello Che si chiama Il senso civico Cioè noi non possiamo Lamentarci Pretendere che le cose Cambiano Se non siamo I primi noi Ad attuare Ma scusa una cosa Già Di per sé Sbagliata all'inizio Perché tu sei uscito Con una commitiva Di persone E queste ti vedono Ubriaca Dopo un po' Che fanno Se ne vanno A casa Per controllo Ti lasciano Ti mollano Tu non sai Quante volte Mi è capitato a me Ho capito Però che fai Quella è un'amica tua Ma che non lo sai Che è in difficoltà Cioè Qualcuno la dovrà Portare a casa Perché non ci riesce È una capacità Da sola Ma se ragionassimo Sempre così Non succederebbe Niente di brutto Nel mondo Magari fosse così Che ci fosse Il senso critico Delle cose Dire Ho una mia amica Non la lascio da sola Io sono rimasta Ma quella per me Era una sconosciuta Nel senso Era una fan così Solo che ho Ho filato Il movimento strano Esatto E ho detto Cioè questi Gli fanno qualcosa Di brutto Questa è un'altra cosa Bello Il tempismo Il tempismo È molto importante E tu in quel momento Specifico sei passato Hai origliato Una cosa che non ti ha suonato E hai aiutato una persona Questo dovremmo fare Quotidianamente ogni giorno Essere presenti Ascoltare l'altro Sconosciuti Non sconosciuti Perché se aiutiamo solo Le persone nel nostro gruppo Non usciremo mai Dalle nicchie Mai Mai Quindi è Da una parte triste Quello che dici È vero Che tu dici Io voglio finire il concerto Tornare a casa Stare con la mia ragazza E purtroppo Non è successo Però Trenta minuti in più Magari evitano Uno stupro Sì Esatto O comunque Una violenza sessuale Cioè E cambia la vita delle persone E certo Cambia la vita delle persone Perché poi è diventata Una parola normale Si sente tanto stupro Femminicidio Ormai le persone si sono abituate Ma ragazzi Sono cose che ti cambiano La vita seriamente E ti fanno fare Delle scelte Completamente diverse Per questo c'è bisogno Sia di prevenire questo Ma anche di tanto aiuto Nel post violenza Appunto Ecco Questa è la mia successiva domanda Che tipo di aiuto Fornite E pensi Tu sia essenziale A una persona Che è stata abusata O comunque vittima Di questi tipi di reato Allora La cosa più importante È non sentirsi sole Sembra scontato Ma non è scontato E non è banale Quindi La condizione di rimanere Isolata Nei tue memorie Nei tuoi ricordi In quello che hai vissuto In quello che hai percepito Può farti andare fuori di testa Io ho subito Una violenza da bambina Quindi Posso permettermi Di ricordare la sensazione Quindi Se abiti la solitudine Può essere devastante Io invece Sono stata molto fortunata Perché avevo Intorno a una famiglia Che mi ha supportato Non mi ha fatto sentire Sporca Perché è una sensazione Che provi Io avevo otto anni Quindi pensa Quanto una mente può essere Quindi non ero strutturata Guarda è successo questo È oggettivo È orribile Ma possiamo uscirne Rimanere relegate Nella figura di vittima Non è giusto Perché Non possiamo Dare tutto questo potere Alle persone Che ci hanno fatto del male Quindi Quindi i supporti Facciamolo È l'unico modo È l'unico modo Se no rimaniamo No Scusami Ci tengo molto A questa cosa Quindi Certo Sì Oh non mi fai lacrimucce Però Dai Ok C'è sta pure Il coso che suona Che è Scusate Allora Adesso ti chiedo Di commentare Un Un Fatto di cronaca Di un po' di tempo fa Non un fatto di cronaca Un esperimento Di una legge Sì La legge di cui ti parlo è Salvini ha fatto questa proposta Di mettere I taxi gratuiti Per le persone Che hanno esagerato Con l'alcol Dopo le serate In discoteca Non credi Che è un po' limitante E soprattutto Agevola L'uso dell'alcol Perché per esempio Magari A fine serata Ritornando al racconto Che ti ho fatto prima Si ritrova Una ragazza Da sola Ubriaca O anche Non ubriaca Magari drogata E non può accedere A sto servizio Perché non è ubriaca È una follia Oppure Ci stanno persone Che ti stanno dando fastidio A te donna A me sembra assurdo Che non puoi accedere A un taxi Gratuito Sono d'accordo Non amo Questa proposta Di legge Non ci credo Ma semplicemente Perché è difficile D'attuare Quindi sono quelle cose Che si propongono Di cui si parla Per parlare Ma parliamoci chiaro Come si può Creare un taxi Per le persone ubriache Come determini Che la persona È più ubriaca Dell'altra E quindi merita La corsa Piuttosto che io Quindi già La parte pratica E tecnica Di gestione Il progetto Cioè Lascia Il tempo Che non sia In pericolo Che ho subito De la massa Che non voglio Esatto Quindi che dico All'app Ciao app Io ho bevuto tot E quindi Io prendo il taxi Non armando Non ha molto senso Laura Quando ho fatto La call to action Di donne per strada Ricordo che Il punto fondamentale Erano i taxi gratuiti Per le donne Quindi Il taxi È un tema Molto importante Molto attuale Molto moderno Difficile Però Credo Che ci sia bisogno Di trasporti pubblici Quello è fondamentale Persone Quindi conducenti O persone Sui trasporti pubblici Che sono stati formati Per gestire Determinate situazioni Perché È più semplice Gestire masse Quindi Tanti autobus Tante metro La metro notturna Quindi Il fatto di essere insieme Agevola Un servizio Teta tet È complesso Come lo monitori Quante macchine Metti in più È più facile Il trasporto pubblico Però ti dico una cosa Noi abbiamo scoperto Facendo un po' di studio Che per esempio A Roma Nel comune di Roma Tutte le donne Possono prendere Il taxi Dopo l'entito Gratuitamente No 10% Ok È una proposta di legge Che è stata C'è C'è Ma fu fatta Un po' Da anni Ho cominciato ad andare A prendere il taxi Dopo i 10 Faccio guardi Salve Ah sì sì Però vabbè Ma non si sa molto Faccio no Perché il comune di Roma Non vuole che si sappia Ma non voglio neanche Sapere il motivo Ma io ho diritto A questa cosa Sì sì Certo che ho diritto Altri ti dicono Non è vero Quindi lì tu devi far valere Nel fatto che tu sei informata E lo sai E se tu vai a studiare In ogni comune in Italia Ogni comune ha le sue agevolazioni Secondo me andrebbe fatta Un sacco di pubblicità Per far capire Che esiste questa cosa qui Noi abbiamo provato Ma è difficile arrivare a tutti Dovremmo sicuramente Farlo di più È che poi Ogni comune è difficile Quindi lavorando in nazionale Dice il comune di Roma E ti arriva la ragazza di Napoli Che ti dice Eh scusate però Donne per strada E Napoli E tu vorresti coprire Tutte le città Però bisogna fare un lavoro Non scusami tanto Il taxi Per gli umiliati Capisci Ma questo non è un lavoro Che deve essere fatto Dalla politica Perché Guarda Con Donne per strada Ho scoperto Che non dobbiamo più aspettarci Dalla politica Queste cose È brutto quello che sto dicendo Ma noi cittadini Siamo in grado Di sviluppare progetti Per andare in contrapposizione E poi pretendere Perché se aspettiamo Che loro fanno qualcosa Le politiche E le istituzioni Non ne usciremo mai A me sembra Anzi si accaniscono Perché con la nuova riforma Ad esempio La figura della donna Secondo me Intesa da questo governo Cioè È una figura De riproduttrice sociale Nel senso Delle agevolazioni Le prendi Solamente dopo Il secondo figlio Perché non ci sono giovani In Italia E quindi loro vogliono Che facciamo più figli Capisci? Invece di creare Un paese per i giovani Ma Ai giovani Fondamentalmente Gli stai Alle giovani donne Gli stai mettendo Ancora più I bastoni tra le ruote Perché È assurdo Che In tutta Europa Sono agevolate Le donne Per quanto riguarda L'acquisto degli assorbenti E qui in Italia Invece Gli aumentiamo l'IVA 10% Ieri Ce l'hanno detto 10% È tantissimo Armando Capisci Ogni mese Che tipo di spesa Ha una donna Io lo capisco benissimo Il problema è che Cioè Il nostro premier è donna Pure lei credo Che abbia le sue cose Il presidente Ma certo Anche lei Esce il sangue Ogni mese Il problema è che Lei sta gestando La sua esistenza Nel modo in cui vuole Gestire a lei E non va bene Non è giusto Però Siamo in una democrazia Certo L'hanno votata Eh sì Purtroppo sì Ma lei ieri Ha fatto un intervento Ha detto sì sì Altri 4 anni Devo stare qua Poi vedremo Tra 4 anni Che cosa ne pensa La gente del mio operato Però nel frattempo Il paese va a rotoli Diretti civili Li stiamo perdendo E non c'è cooperazione E c'è solo un altro Addirittura ho visto Che hanno tagliato i fondi Alle case famiglie E qua a Roma Cioè C'è una rischia chiusura Secondo me La casa famiglia Per una donna Che ha per esempio Subito violenza Dentro le mura di casa E non è Non è Indipendente Quindi L'unico che magari Porta lo stipendio A casa È il marito Ma come fai A uscire da una situazione Non esce Se non c'è una casa famiglia Che ti si prende E tu vai a vivere là E ti protegge Da magari uno Che ti fa violenza quotidiana Sono d'accordo Questo è un altro punto Che è toccato molto Fico Cioè Fico Passami il termine Che è un'altra cosa Nel quale crediamo tanto È la violenza economica Quindi creare delle politiche Per il quale Si creano Dei metodi In cui le donne Possono fare dei corsi Di aggiornamento Se sono in un certo stadio Se sono in un certo stadio di età Quindi se ho 40 anni E ho deciso Ho preso coraggio Di uscire da una situazione Di violenza Non ho mai lavorato Nella mia vita Perché questo è il mio contesto familiare Devo avere dei luoghi Che mi dicono Rinserimento di lavoro Riaggiornamento Ma propositivo Non Sei l'ultima ruota del carro Quindi facciamoci due corsetti Perché se no Non riesci a far partecipare Una persona Se gli dici Sei l'ultima ruota del carro Non la rendi partecipi Non la valuti Esatto Come le case famiglie Di cui parli I centri di antiviolenza Che hanno stanze Che accolgono le persone Però purtroppo Non sono mai abbastanza Perché ne servirebbero Migliaia e migliaia In ogni città Tu non sai quante donne Ci scrivono me Dicendo io Voglio uscire Ho capito da questa situazione Ma non ho gli strumenti Per farlo Perché poi Nel momento in cui Esco da questa condizione E sono dentro casa Con due bambini piccoli Non ho mai lavorato Nella mia vita Certo Dove vado? Dove vado? Perché se poi vado Magari dalla famiglia Che mi giudica Perché magari È una famiglia di provincia Con tutto il rispetto Con il rispetto Alla famiglia di provincia Ha una cultura Di un certo tipo Ti dice Come una ragazza Aneddoto Scrive Donne per strada Ho paura Vado in polizia Ho scoperto che mio padre Mi violenta In polizia Mi hanno detto Sei sicura di quello Che stai dicendo Torno a casa Vado alla mia zia E la zia mi dice Noi subiamo In questo paese Da sempre queste cose Lo risolviamo insieme Ma Zitta Perché poi che fai? Dove vai? Ti prendi Allo stigma Sociale Quindi sei quella Capito? Che hai stigato Che ha fatto E' finita A rovinare una famiglia Perché questo è reale Ancora abbiamo Queste narrazioni Nel nostro paese E la zia Sono sicura Che ama Sua nipote Ma non ha Neanche lei Gli strumenti Per poterla aiutare No però Vuol dire Tenersi un mostro In famiglia E questo succede? Eh ho capito Ma non deve più succedere Perché siamo nel 2023 Facciamo E c'è La parola delle donne Conta La parola della vita Delle donne Non puoi censurarla Pure che c'è una La perdita L'onore di una famiglia Che cosa vuoi? Tenerti un mostro Ancora che continuerà A fare quelle cose Perché E' così E' così Che si sviluppano idee Tu Armando Hai Non lo so Una conoscenza In questo mondo Ok Mettiamo questo spazio E lo abilitiamo Capito? Ogni persona Ha delle skills Ha delle conoscenze Ha dei talenti Se si mettono insieme Si creano le situazioni Donne per stare Nasce da Instagram Capisci? Da Instagram Quindi si può Nasce da un problema Che è gravissimo Qui in Italia E questa è stata La vostra risposta Però adesso Cioè servono Le risposte Delle istituzioni Che non è Di certo Tagliando i fondi No 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 Anche perché Noi cerchiamo Di prevenire Ma ci sono Tanti lavori Che bisogna fare Seguendo Quello di cui Abbiamo parlato Ci sono tantissime cose Quindi E' importante Ci siano tante associazioni Ma che queste associazioni Abbiano i fondi Il terzo settore Non ha Non ha fondi Il nostro presidente Lo chiamo così Perché lei ha deciso Di farsi chiamare Al maschile Ha detto Ragazzi Legge di bilancio Io non rimetto Di nuovo Tutti questi fondi Per i centri antiveolenza All'associazione Cioè abbiamo Altro da fare Abbiamo altro da fare Senti Eh Da non ce ne fa un culo Da questo mondo No no Però La domanda Che mi viene da farti Successivamente E' questa Ok C'avete tutto contro Però Il momento Che ti rendi conto Che hai aiutato Concretamente Una persona Nelle sue problematiche Quali sono Le sensazioni Che provi Che provate Voi ragazze Che bella questa domanda Grazie Bella Io mi commuovo Se è facile al pianto Facilissima Però no In quanto gruppo E' strano Una sensazione Di sollievo Ma non sollievo Di dire Ok Non bisogna Continuare a farlo Ma sollievo Nel sapere Che stiamo facendo qualcosa Che noi avremmo voluto Vedere da bambine Da piccole Da adolescenti Sai quelle storie Di quei progetti Che avresti voluto sentire Quando ne avevi bisogno Quindi quando noi Aiutiamo qualcuno O c'è un confronto Con una donna O tante donne Che ci guardiamo negli occhi Ci riconosciamo E non ci giudichiamo Qualsiasi sia il nostro Contesto sociale Da dove veniamo E ognuna di noi Quello che deve subire Sai il femminismo Intersezionale E tutto quello Per un istante Si abbatte Siamo insieme Ci abbracciamo Virtualmente O no Non te lo so spiegare È pazzesco Riempitivo Sì è pazzesco Perché ti dà Da una parte Molta forza E dall'altra Ti coccola tanto Perché siamo Abbiamo bisogno Di essere insieme Non Singolarmente Non andiamo Andiamo in depressione Siamo confusi Non capiamo Dove dobbiamo essere Quindi Il gruppo aiuta E se è un gruppo Che è propositivo Pum È come quando Voi a un concerto Chiudi gli occhi E canti la tua canzone preferita No? E quella la sensazione dà Senti Tu Sin da bambina Avresti voluto Qualcuno Che si occupava Fondamentalmente Di aiutare le donne E istruiva Pure Le nuove generazioni Come te Per esempio Secondo me L'ora di educazione Sessuale Nei licei Dovrebbe essere Fondamentale Dall'elementare Allora Quello che ti chiedo io È Come Voi Di donne per strada Siete intervenute Incontrando i giovani Nelle scuole Allora Noi giovani Ancora non li abbiamo incontrati Però abbiamo Chiuso A settembre Questo progetto Chiuso nel senso Di scriverlo Che si chiama Il D per S Lab Quindi sarebbero Per esempio Un istituto Una scuola Vuole avere a che fare Con noi Quindi violenze di genere E tutto quello che implica Il nostro mondo Quindi digital Tutta una serie di nomenclature Che non ti sto adesso Ad elencare E possiamo andare A fare dei corsi Per cominciare A entrare Piano piano Nel sistema scolastico Perché Non avevamo pensato Che sarebbe stato possibile Due anni fa Quando abbiamo iniziato Il progetto Invece Abbiamo visto Che è fondamentale C'è bisogno Speriamo però Che sarà Il ministro Della scuola Cazzo Come si chiama Della pubblica istruzione Che istituisca i corsi E che non ci sia Bisogno di donne per strada È una cosa che abbiamo sempre detto Vorremmo non esistere Però esistiamo Quindi Il D per S Lab è fico So che tu lavori con i giovani Quindi se Se uniamo le forze Sarebbe fico Sarebbe fico Andare nelle scuole A fare l'educazione Sarebbe stupendo Anche perché i giovani Hanno delle cose da dire incredibili Certi Ho visto un'intervista L'altro giorno Che mi hanno Questa scuola Non mi ricordo dove Questo ragazzo Fa no ma Sai la palpata È mica la violenza È una cosa carina Per dire alla ragazza Che mi piace Quindi pensa Quanto c'è Cioè capito Apri un ventaglio Che gli dici Il consenso Dove è andato a finire Noi ridiamo ma sì È così Però ti posso dire una cosa Invece Un preside Di una scuola La mia scuola È Rossellini Una scuola nel nord Italia Per assurdo Ha detto ai suoi ragazzi In un certo senso Quindi di solito Lo immagini per strada Non dentro casa Una ragazza cammina Un uomo la prende Il buio La mette in un angolo E la violenta Poi ci può essere Lo stupro Io sono a un bar Conosco un ragazzo Mi è capitato A tutte le donne È capitato Stiamo insieme Mi piace Da dove andiamo Da me Da te andiamo Abbiamo una sigaretta Ascoltiamo un disco Beviamo un'ultima cosa Stiamo per Tu mi baci Io ti bacio E a un certo punto Mi rendo conto Che non mi piace Non mi va Ti dico no E il ragazzo fa Ma no amore Ma dai ma sì Ma non ti preoccupare Adesso ti faccio vedere Quanto è bello il mio tocco Quanto sarà stupendo E lì Tu dici Oddio che faccio Lo compiaccio Oppure Insisto E io a volte Ho fatto l'amore Senza volerlo fare È una violenza quella È una violenza Lo so che è difficile Da spiegare Però Il momento in cui ti dico no Tu non mi devi convincere Tu devi essere Empatio Che dire Subito Ma certo Pur di Ci sentiamo domani Non ho il tuo consenso Esatto Esatto Anche se io al bar Flirtavo con te Ero contenta di stare con te Io ho il diritto Anche mentre sto per togliere Le mie mutande Di dire No 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 Mi piace Non mi va Basta Come può succedere agli uomini Come può succedere a chiunque Perché però noi donne no? Perché noi anche se diciamo no Ci attaccano al muro E continuano a fare l'amore con noi Fare l'amore A scoparci Perché questo è Perché Però aspetta Il saper frenare gli istinti I propri istinti È quello che determina La sanità De una persona No la sanità L'essere Avere strumenti Avere strumenti Per capire che Io e il mio pisello Gli posso dire amore Ci vediamo dopo Certo E domani è un altro giorno Certo Ah perché rovino la vita a qualcuno E la rovino anche a me Chiaro Perché poi è un stupro Dovrai subire responsabilità Devi prendere le tue responsabilità A livello legale Ovvio Nel migliore dei casi E negli altri Perché proprio quello È il punto del ragazzo Di cui parlavamo Della palpato Delle risposte che loro ti danno La maggior parte delle volte Loro non si rendono neanche conto Che è uno stupro Una violenza Per quello abbiamo bisogno Di andare nelle scuole Di stare con i giovani Perché l'uomo adulto Io sono convinta Non lo cambio oggi Però è assurdo che Purtroppo Purtroppo Gli unici che fanno Educazione sessuale Adesso Agli adolescenti Ai giovani Sono i siti pornografici Ah sì Per cui I giovani Ci hanno Delle aspettative Sul sesso Superiori a quello Che è la realtà Esattamente E questa depressione E questo porta anche La depressione Certo Perché tu magari Ti aspetti una performance De quelle che hai visto E là Anche noi donne Guardiamo Guardiamo I porno Cioè Non è una cosa Solo maschile E sembra sempre Che è solo maschile Tutti noi Guardiamo i porno Perché a un certo punto Puoi scoprire la tua sessualità Non te lo insegnano a scuola In casa è difficile parlarne Perché Capisci che io A 14 anni Non avevo voglia Di parlarne con mia madre Mamma Mi insegni Che cos'è la mia vagina Ma magari Non c'è Manca una persona Un genitore Che è Come si dice Educato Per educarti Guarda Io ho mia madre Che è una donna Pazzesca È giovane Quindi non che sia un punto in più Ma è ovvio Che è più vicino a media età 45 anni Viene comunque Da un'educazione in Brasile Che le scuole sono molto buone Per questo C'è educazione sessuale Dal giorno 2 Poi mia madre a un certo punto Ti ha detto Io come donna Come regina Non sono in grado Di darti questi strumenti E magari è utile Una terza figura Nella scuola La scuola Perché la scuola Tu non lo associ a niente Io da mia madre Non voglio sentire A 14 anni La lezione Sulla sessualità Ma è giusto Che sia così Ma deve essere qualcuno Di formato Che è il suo lavoro Che viene E mi insegna Però prima C'erano i consultori Guarda io sono andata Ai consultori Quando ero adolescente Anche lì Io ho accompagnato Una settimana Fra la mia migliore amica Ad abortire Ed è stato devastante Armando Devastante Urla Pianti Trattamenti tremendi Che tu dici Ma Cioè da una parte C'è una ragazza Che non vorrebbe abortire Ma ha 17 anni Che fa E la madre accanto Che è sua figlia La sua cucciola E viene trattata Come una bestia Dagli infermieri Dall'altro Il ragazzo Che sta lì Attaccato al muro Che non sa come gestire Questa cosa Perché non sa come gestirla Nessuno gliel'ha spiegato Nella prima volta Che gli è gabbia Bravissimo Quindi c'erano uomini Donne Professionisti Adulti Bambini Tutti Che stavamo così Che facciamo E quando C'è una cosa pratica Seria da fare Una donna ha deciso Di non avere un figlio Qualsiasi sia la storia La dobbiamo aiutare E creare un ambiente Intorno Sicuro Sano Propositivo Non urla Di tu Perché tu Non puoi essere qui Sei giovane Ti rendi conto In che condizioni Ti sei messa Ma tu puoi trattare Una persona così Però ascolta Ci sono luoghi In Italia Tipo che ne so Nelle Marche Dove accedere Al servizio Della pillola RU486 Mi pare che si chiami La pillola Per abortire Anticoncicente In tutta In tutta la regione Non c'è Un obiettore Di coscienza Di conseguenza Nessuno Agli ospedali Agli consultori Sul territorio Fa accedere A questo servizio Che dovrebbe essere Garantito a tutti A tutte A tutte Per quello Il supporto ginecologico Ci teniamo Così come è Nelle Marche Piano piano Questa politica Si sta Spostando per tutta Italia E per me è assurdo Assurdo Guardando al futuro Quali pensi Possono essere Le tappe Per l'associazione E come pensi La società Possa Fornirvi Aiuto Ad aumentare Gli utenti Di questo Ad aumentare L'aiuto Aiutanti Di questo Progetto La ridico? No era perfetta Che emozionante Credo che sia Importante Dare fondi Alle associazioni Non solo la nostra Ma tutte le associazioni Le associazioni Non possono Vivere Annaspando Perché hanno bisogno Di Liquidità Per poter fare I progetti Perché Di idee ce ne sono tante E certe sono giuste Però se non possono Essere applicate Rimangono sulla carta Sono solo progetti E Si può lavorare Noi abbiamo lavorato I primi due anni Gratuitamente E a un certo punto La cosa stanca Perché Ti devi dedicare Completamente A questo progetto Quindi Più che altro Faccio un appello Per tutte le associazioni E tutte le realtà Che si occupano Di cose simili alle nostre Nel nostro caso Sì Questo E Essere insieme Credo che abbiamo Toccato dei punti fondamentali Parlando E È bello Parlare con un uomo E sono contentissima Se ci dai una mano Con le scuole Questo sarebbe Un super regalo E quindi questo Fare rete Fare tanta rete Una cosa un panno i novanta Ma è la cosa che funziona Beh Aiutarsi Collaborare Che porta Solo buoni frutti Solo quello Speriamo Riusciamo Certo Ce la facciamo Chiusura Ciao ragazzi Vi amo Siete pazzesche Va bene Con l'esuberanza Della nostra amica Bianca Io vi saluto E vi invito sempre A rimanere connessi Questo è Mestieri impossibili Io sono Sicoria Vi mando un bacione Ciao